Uno, vai tu, sono. Cosa c'è scritto qua? Leggi, leggi. Bravo, lumaca. Che numero? Undici. Undici. Bravo. Che numero? Tredici. Tredici? Ah, quattordici. Leggi? No, leggi bene. Tredici. Ah, bravissimo. Che tocchi? Che numero? Tredici. Tredici. Pera. Questa l'abbiamo imparata e gli possiamo togliere anche la scritta. Che numero? Tredici. Eh? Tredici. Tredici. Bravo. Apri. Quale? Quale vuoi aprire? Tre. Tredici. Bravo.